Io lo so che non è bene accanirsi con categorie già prese duramente di mira da tutti in società, ma la mia è una disquisizione che vuole aiutare fattivamente queste persone disagiate. Perché nessuno si occupa di certi tifosi? Come mai la sanità pubblica non si occupa di loro, offrendo loro, che so, un sostegno, un assegno, un contributo, un presidio, un gruppo d'ascolto, un gruppo di sostegno, un sussidiario? Perché? Perché il paese non si prende cura di certi tifosi? Non è affatto decoroso, sapete, che uno stato consenta ai propri cittadini di girare con queste bandierine de merda, con queste sciarpette de cotone liso, dai colori improbabili con scritto il nome della squadra, o di far cantare loro questi cori da stadio, malmessi dal punto di vista grammaticale. Dei cori che iniettano immediatamente in chi ascolta, in chi canta, un'incredibile voglia di fare violenza. Anche se sono una un po' fricchettona io, se mi piace la pace nel mondo, io quando cammino e sento questi cori, questi po-po-po-po, io vorrei immediatamente picchiare qualsiasi persona, qualsiasi animale, sradicare un cartello e darlo contro il mento al giornalaio, spaccarlo contro un cofano e scrivere FICA! Ma non voglio generalizzare, no, no, perché c'è chi va allo stadio anche per divertirsi, per non pensare, non c'è niente di male a non pensare. C'è chi ama il calcio perché è uno sport vero, dove la gente si fa male per davvero, dove girano soldi puliti, dove gli sponsor sono sponsor che perseguono questo obiettivo che gli accomuna allo sport, che è il calcio, di etica, di morale, di purezza. C'è chi porta i propri bimbetti allo stadio per far vedere loro com'è bello un gioco di squadra, e poi che bello sognare che il proprio figlio, magari a 17-18 anni, calci un pallone guadagnando milioni di euro e sposando ragazze che si occupano di intrattenimento televisivo davvero disdicevole. C'è chi quando arriva il momento di vedersi la Champions in TV, ah, non c'è niente che possa sollevarlo dal cazzo di divano, e si siede lì, si stappa la sua birretta industriale, ah, inizia la serata, eh, e la moglie in cucina, sti cazzi, s'arrangiasse con un bel piano B, ma poi se la moglie si trova a un piano B, perché comunque, insomma, non puoi stare sempre sul cazzo di divano a vedere una partita, diventi galeazzi, eh, e poi le tifoserie, alcune sono molto belle, perché si organizzano, partono da lontano, affittano il loro pullman, comprano questi abbonamenti facendosi un mutuo, sono anche loro che fanno girare la nostra economia, ed è bene che l'economia giri, non importa dove cazzo vada, l'importante è che giri, io so che non è bene accanirsi con categorie già prese duramente di mira da tutti, ma ieri con un amico ci chiedevamo, forse un po' ingenuamente, quanto lungo sarebbe l'elenco di cose belle che si potrebbero fare se un giorno tutti i tifosi mettessero i soldi che investono nella loro tifoseria e nello sport del calcio dentro una piccola urna, che diventerebbe sempre più grande, sognavamo con questo amico, e immaginavamo che poi quest'urna andasse laggiù, in un paese lontano, lontano, dove ci sono un sacco di ragazzi e un sacco di giovani che sognano di fare calcio, qualcuno di loro ci riesce, riesce ad arrivare nei paesi ricchi per fare l'eroe sportivo della nostra epoca, ma tanti altri no, pensavamo che bello sarebbe se quest'urna arrivasse lì a destinazione, dove è pieno di bambini e di ragazzi che vorrebbero studiare, ma non possono, perché devono cucire palloni. Non siamo riusciti a quantificare quanti potrebbero essere questi soldini dentro all'urna, ma abbiamo convenuto una cosa, forse un po' moralista e antiquata, che probabilmente i soldini dell'urna, i ragazzi del paese dei palloni cuciti, li utilizzerebbero molto meglio di certi tifosi. Si scherza, eh?